Intanto abbiamo posto al governo una questione di metodo. Questa legge di stabilità rischia di venire avanti con grandi insufficienze, con grandi squilibri per effetto del mancato dialogo e il mancato confronto con le parti sociali e con il sindacato. Nel merito ci sono luci e ombre rispetto a quanto c'è stato anticipato. Bene l'intervento di proroga dell'ape sociale con un ulteriore allargamento delle platee, proroga di opzione donna, risorse per assicurare il rinnovo dei contratti. Bene il rafforzamento con 2 miliardi del Fondo Sanitario Nazionale, ma il giudizio di assoluta insoddisfazione su questioni che abbiamo posto in maniera precisa. Primo, ci sembrano largamente insufficienti le risorse programmate in legge di stabilità per finanziare una vera grande riforma degli ammortizzatori sociali. Non ci vengono assicurate risorse adeguate per la legge sulla non autosufficienza. Per noi è un tema centrale, atteso che abbiamo 3 milioni e mezzo di cittadini che vivono in condizione di difficoltà. C'è una legge che non è assolutamente e adeguatamente finanziata. Le risorse programmate sono largamente insufficienti. Abbiamo posto il tema delle pensioni. Per noi è importante assumere il principio che la Previdenza e le pensioni non può essere considerato un dettaglio. Nella contabilità generale dello Stato, le pensioni non solo sono un costo economico, ma c'è un problema di sostenibilità sociale. Sbagliato ritenere le pensioni un lusso, un privilegio o una regalia. Per noi rimane un diritto fondamentale per la persona dopo un'intensa attività lavorativa. Ecco perché abbiamo chiesto misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro a partire da 62 anni, anche per evitare penalizzazioni di generazioni che hanno già sofferto la crisi economica e l'emergenza sanitaria dall'altro perché può significare uno stimolo per un turnover e per garantire un ricambio generazionale nel mercato del lavoro. Abbiamo chiesto certezze per incentivare l'adesione dei giovani alla Previdenza complementare. Abbiamo chiesto l'allargamento della quattordicesima mensilità per i pensionati. Su questo tema non abbiamo ricevuto o registrato risposte sufficienti. Ecco perché le incertezze sul finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, le mancate risposte sul tema delle pensioni, l'assenza di finanziamenti sulla legge per la non autosufficienza e le mancate risposte che abbiamo posto sul tema del fisco, dove abbiamo chiesto che bisogna ridurre il peso della tassazione fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni, ci portano a ritenere fortemente insufficiente il confronto. Ecco perché nelle prossime ore decideremo unitariamente, alla luce del testo di legge che sarà approvato in Consiglio dei Ministri, come diamo luogo ad una fase di mobilitazione con manifestazioni a sostegno delle nostre proposte e delle nostre rivendicazioni.